Ma la dance è morta? E se la risposta a questa domanda è sì, beh, allora quando è morta? Come è morta? Cerchiamo di capirlo in questo video sul canale YouTube della storia della dance. Io chiaramente vi dico quello che penso, insomma, facendo questo mestiere da diversi anni a questa parte. Voi fatemi sapere la stessa cosa nei commenti. Ma, insomma, vi voglio portare in questo ragionamento partendo da un fatto semplice. Un genere che sia dance, rock, pop, R&B, muore, tre virgolette, quando non è più mainstream. Cosa significa essere mainstream? Lo dico per tutti quelli che non fanno il mio lavoro e per coloro che non masticano. Ecco, questi termini radiofonici barra musicali. Beh, mainstream significa che arriva nelle classifiche, nella top 20, no? Un brano mainstream e una super hit. Ecco, diciamolo così. Quando non ci sono più hit dance, allora il genere, man mano, non è che muore, ma scema fino a diventare un'elite, un sottobosco. Fino a sparire completamente dalle classifiche. Partiamo dagli anni 90, no? Che si citano sempre come i grandi anni d'oro della musica dance. È assolutamente così. 1990, nella classifica dei 20 dischi più venduti dell'anno, c'erano quattro pezzi che trainavano tutti gli altri. Perché è proprio questo il ragionamento. Cioè, se non c'è il pezzo o i pezzi che trainano tutto il genere, beh, allora, come ho detto poc'anzi, scompare. Nel 90, top 20, c'erano quattro dischi. London Beat, I've Been Thinking About You, Madonna con Vogue, 24-7 con I Can't Stand It e Snap con The Power. Ecco, pensate, quattro dischi su venti erano dance. Siamo arrivati al 1994. C'è stato, come dire, ci sono stati tre anni d'oro della musica dance. 94, 95, 96. Abbiamo detto, nel 90 c'erano quattro dischi che trainavano gli altri. Nel 94 erano undici pezzi su venti quelli dance. Attenzione, stiamo parlando di classifiche, non dedicata alla musica dance, proprio classifiche generali, ufficiali. Il 1995 è l'anno dove c'era più dance in assoluto. Diciotto pezzi su venti erano dance. Nel 1996 quattordici dischi su venti erano dance o pseudotali. Perché nel 1996 ci fu l'esplosione della Progressive. Dopo il 1996 ci fu man mano un calo dei dischi che erano in top 20 nelle classifiche. Anche perché la musica cambiò. Cioè, nel 1998 c'era molta più musica pop. Anche nel 99 e del 2000. Mi ricordo Bon Jovi, It's My Life, che ne so, Alisemo, Lolita, gli Offspring, i Chamba Wamba che c'erano anche nel 97. Quindi cosa succede? Nel 95, 18 dischi su venti erano in top 20 ed erano tutti dance. Nel 1999 ce n'erano molti di meno. Però, comunque, stiamo parlando di un periodo, 98, 99, 2000, 2001, in cui c'erano gli Eiffel 65 con Blue, Super It. Gigi Dug con tutti i suoi dischi, la Morto Jure. C'era Gabri Ponte che trainava. E poi soprattutto la House Music, Mojo con Lady, c'erano un sacco di pezzi che nel 2000 e 2001, Superman Lovers con Starlight. Insomma, i D.B. Boulevard con Believe e Point of View nel 2002. C'erano comunque dei dischi dance che riuscivano ad arrivare nella top 20 e questo garantiva, così come nel 1990, che il genere fosse sempre trainato da questi pezzi. Vi ricordate che a un certo punto gli Eiffel 65 virarono sulla musica italiana? E successe nel 2003-2004 che tante produzioni dance commerciali, anche se è un termine che non mi piace, erano sostanzialmente dei remix di dischi di una volta. Ok? Quindi da un lato nella Italo Dance si è preso quel filone dei remix perché l'aveva fatto già Gabri Ponte, gli Eiffel, DJ Lasa. Dall'altra arriva la House Music che però nel 2003-2004 non era più in grado di arrivare in alto. Sì, c'erano dei pezzi come E-Samba, Madan, ma nelle classifiche europee e mondiali non si vedevano. Magari arrivavano al numero 50, al numero 60, non c'era più quella potenza della dance che c'era una volta. Qualcuno, quando metto dei pezzi del 2007-2008 nelle pillole di storia, mi scrive sempre La dance è morta nel 2004. Ragazzi, posso dirvi la mia? Secondo me è una cazzata. Nel senso, nel 2004 ci fu veramente un buio totale perché da una parte, ecco, gli Eiffel che si erano buttati sulla musica italiana, la musica House che sì c'era ma non riusciva ad arrivare mainstream, l'unico pezzo in Top 20 è Dragostea Dintei di Aiducci. Gli anni successivi, se vogliamo, ancora peggio, nel 2005 arrivò la gasolina di Daddy Yankee e lì si aprì il genere reggaeton che poi esplose anni dopo e rimase per, credo, almeno 15 anni. Ecco, attenzione, il genere però reggaeton, R&B, Hip Hop, già esisteva. Io mi ricordo che aprivo le pisse con l'R&B e l'Hip Hop, Crazy Love di Beyoncé, Fat Man's Coop, Be Faithful. Quindi già questo genere si ballava. Il problema è che non c'erano più dischi dance da mettere. Pensate che nel 2005 l'unico salvatore fu Bob Sinclair con Love Generation perché la sua hit fece sì che non tanti, ma fece sì di tenere, come dire, il genere alto anche se nel 2005, insomma, non uscirono tanti pezzi rilevanti dal punto di vista commerciale, attenzione, dal punto di vista di mainstream. Cosa succede poi? Beh, Bob Sinclair per anni l'ha fatta da padrona, Love Generation, Sound of Freedom, Rock Disparty, Ragazzi, però, nel 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12 e ci metto anche il 13 con Wake Me Up di Avicii, sono usciti dei pezzi clamorosi. Nel 2007 mi viene in mente Rise Up di Blarock e Ian Carey con Keep On Rising. Sì, lascia stare che non erano più dance anni 90, però la musica è soggettiva. Cioè, anch'io c'ero negli anni 90. Non è che la roba del 1994 è minore. Cioè, non è che mi piace più The Rhythm of the Night, o meglio, che mi piace solo The Rhythm of the Night e valuto Levels di Avicii una cagata, perché mi piace un genere. Io sto parlando proprio della dance in generale. Quindi, partiamo dal fatto che è tutto soggettivo. Però, effettivamente, ci sono stati dei pezzi clamorosi, anche grazie a David Guetta, che è stato il salvatore della musica dance, se addirittura l'ha mischiata con l'R&B e l'hip-hop, con i cantanti Rihanna, Asher, Neo, ha fatto delle robe clamorose. Nel 2010, se vi guardate le classifiche, sui 20 dischi, 10 erano dance. Il disco più venduto risultò essere Mr. Saxo Beat di Alexander Stan. Capite che è stato di nuovo, come dire, un periodo florido per la musica dance. Sapete quando è davvero morta, ma non è morta, è finita un po' nel dimenticatoio. Quest'anno, ditemi la hit dance di quest'estate 2024. Non c'è stata. Non mi venite a dire che Pedro Pedro Pe, il remix, è una hit dance, perché non ci credo, né tantomeno, cioè, non ci credo, non ci voglio credere. Sì, vabbè, poi su TikTok è partita, ok, ma si sta parlando di un'altra cosa. Quindi per me Pedro non è una hit dance dell'estate 2024. Ecco, si è salvata Peggy Goo nel 2023, ma anche in quel caso c'era solo lei e poi nient'altro dietro. Attenzione, non sto parlando della musica club, sto parlando proprio della mainstream. Quando si dice la dance è morta è perché si pensa agli anni 90, in cui c'era dance ovunque. Quando non senti la dance ovunque significa che non ci sono brani trainanti o così forti da trainare tutto il genere. E questa è la dura realtà. Mettici anche che, purtroppo, le radio non contano più una cipa, veramente, quasi niente. Nel senso, una volta dettavano le mode, no? Una volta erano propositivi. Adesso, cazzo, è TikTok, è YouTube che decide la moda. Quindi, chiaramente capite che potrebbe succedere che un genere parte prima su YouTube e su TikTok e poi diventa mainstream. Ci auguriamo che sia finalmente, che siano finalmente i prossimi anni, gli anni della musica dance, del ritorno, così come è stato ai tempi di David Guetta nel 2010. Perché, insomma, veramente adesso è un periodo di nuovo buio. Ma la musica è ciclica. Prima o poi si ritorna. Allora, detto ciò, la domanda, la dance è morta? E se sì, quando? Ricordatevi che la musica è soggettiva, ma ricordatevi soprattutto che nel 2008, 2009, 2010, 11, 12, ci sono stati dei pezzi clamorosi e anche l'avvento della EDM. Fatemi sapere cosa ne pensate con rispetto, mi raccomando, nei commenti. Ok? Un abbraccio a tutti. Ciao!